Signore e signori ci sono delle volte in cui nemmeno la parola transizione basta più per spiegare quanto un capitolo può essere veramente ricco Benvenuti a video commento del capitolo 1040 di One Piece Uno di quei capitoli che rende il volume, e tra l'altro siamo anche nel cuore del volume, all'improvviso bollente Talmente bollente che pure Tamago dice che è troppo bollente, una roba pazzesca Signore e signori, un capitolo di quelli che non vedevamo da anni, così ricco che E a un certo punto ho detto ieri, mentre ero in live, ho detto vabbè è finito Invece no, c'era ancora un'ultima pagina, e che ultima pagina E abbiamo tanto da parlare a sto giro, al punto tale che dobbiamo andare un po' oltre Questa volta qui metà video e video commento, metà video in OPQ praticamente su una teoria Che poi ho continuato ad elaborare nelle ultime ore E allora eccoci qui, partiamo dalla cover, vabbè la cover è sempre interessante, sempre carina Abbiamo i figli di Bigomamo, Niji e Yonji che li vediamo all'interno di qui Stanno ripensando al fatto che Bigomamo li ha sconvitti Quindi andiamo anche un po' avanti rispetto al resto della trama Perché magari, avevo detto la volta scorsa, si sono immolati, si sono sacrificati Invece no, sono stati proprio fatti a pezzi da Bigomamo, ma è il che ci sta Dopodiché Bigomamo l'ultima volta, quindi nel 1039, non è stata definitivamente sconfitta Si è rialzata e madonna se si è rialzata, o meglio no, aveva ancora energie per continuare a combattere Però comunque non sono bastate, perché grazie anche a una dedica molto molto intelligente Questa volta fatta da Oda, Bigomamo viene definitivamente sconfitta Finisce un'era, finisce definitivamente e stavolta ufficialmente un'era Cade uno dei quattro grandi imperatori Vabbè, barba bianca, barba nera, ormai il passaggio è già stato fatto Quindi cade uno dei quattro grandi imperatori Il primo restano quindi Kaido, che probabilmente cadrà a breve Shanks e barba nera E poi ne resterà uno solo, come disse il buon Highlander E poi, ovviamente abbiamo altri colpi di scena a manetta La storia di Iori e Erochi, che comunque sono ancora lì sospesi Zoro, la vittoria di Raizo, che verrà ufficializzata nel 1041 probabilmente E poi ovviamente, è lì, mentre pensavi che fosse finito Oda no, mette proprio il carico da 90 e ci fa sparare un bello P.W. su tutta la storia di Uano E ovviamente su questo legame tra Joy Boy, Zunisha, il tradimento, il traditore La menaccia, la cosa, il crimine, la guandanna Non si capiscono, cazzo Allora, a questo punto qui non possiamo altro che semplicemente lanciare la sigla Sigla Allora, partiamo prima dalla parte video-commento Partiamo prima da Big Mom e diciamo quello che c'è da dire su questa entusiasmante vittoria di Law e Kid Che ovviamente, stando ai livelli di forza, ragazzi, me ne rendo chiaramente conto Se io inizio a dire che Law, poco tempo fa, ha affrontato Do Flamingo E Law Flamingo gli ha fatto il culo alla striscia E adesso riesce a battere un imperatore Ovviamente c'è chi attacca questo C'è chi risponde dicendo Vabbè, ma Law contro Do Flamingo era uno contro uno Adesso c'aveva l'aiuto di Kid Vabbè, ma Law è anche migliorato dopo aver comandato contro Do Flamingo Law contro Do Flamingo non ha avuto il tempo di utilizzare alcune mosse Perché dopo il Gamma Knife è stato fregato Oppure qualcun altro potrebbe dire, e no, la differenza sostanziale è che Law, certe mosse, non voleva usarle contro Do Flamingo Se l'era conservata per Big Mom Oppure potremmo dire, tante scuse Adesso, onestamente, stare qui a metterci a fare forum E la cosa non è che mi interessa più di tanto C'è poi, ci sono modi e modi di vedere One Piece Ci sono tante interpretazioni E' ovvio che se fosse un manga di solo combattimento E' un battoshone, però di combattimento puro E veramente, qualora dovesse resistere i livelli di forza puri Cioè proprio matematici Questo combattimento non avrebbe senso Perché Big Mom è più forte Anche se Big Mom dall'inizio di One ha preso una botta in testa cadendo dalla nave Poi una testata da Queen Poi ha combattuto contro Kaido Poi, vabbè, diciamo che ne ha presa già di mazzate Ha combattuto contro Ulti Per cui, però, vabbè, a parte questo Andiamo a parlare della sconfitta Il combattimento inizia con Law Scusate, con Kid che tira fuori questo braccio meraviglioso Spazzare con il quale utilizza il Dumbnet Punk Questa volta abbiamo un'inquadratura ancora più suggestiva E a questo punto qui Vediamo l'effetto del colpo di Law della volta scorsa Io nel primo momento pensavo che era il colpo di Kid Che aveva perforato Big Mom Invece no E il colpo di Law Che appunto aveva creato un cratere E complimenti a tutti quelli Che la volta scorsa avevano pensato Che all'interno di quel cratere Qualcosina poteva accadere Cioè, qualcosina Qualcosona Di grosso Con un bel culone grosso così E non cadere Ma proprio precipitarci dentro Vabbè, l'abbiamo capito Complimenti a tutti voi Però Big Mom ovviamente Non poteva finire come un King qualunque Doveva avere ancora almeno un altro capitolo Ed eccocelo qui Lei tira fuori un sorriso Continua a minacciare Maledetti microbi Voi adesso Adesso mi rialzo E vi faccio il culo Adesso vi do la possibilità di scegliere Un po' come Kaido, no? Che offre questa opportunità O morite Oppure diventate mie schiavi E soprattutto Continua a chiamarli microbi Mettiamo un asterisco Perché dopo In realtà Si renderà conto Che questi microbi Tanto microbi non sono Il che ci sta benissimo Nel Gekogujo Dopodiché Bellissime le risposte di Lo e Kid Mentre le loro ciurme E anche molti altri Dicevano Ma no ma questa qui è imbattibile Ma cazzo Ma questa non muore mai Ma come si fa Scappiamo tutti Tutti che stavano cagando E Big Mom col sul poco Se stava già fregando Le loro anime Le risposte di Lo e Kid Che sono ovviamente Un meraviglioso messaggio In un manga shoran E del genere Lo che dice Me ne occuperò io Stato per stare tranquilli E lo farò Con una dedica All'uomo Che mi salvò in passato Ovviamente erocinante Mentre invece Dall'altra parte Kid che dice Beh Big Mom Maledetta imperatrice Non ti arrendi mai E allora ti spenderò all'inferno In altre parole Questi non hanno paura Nemmeno del fatto Che Big Mom Continua a stare all'impiedi Qui ovviamente Anche ieri Parecchi notavano Il fatto della stranezza Di Lo Di cui adesso parliamo Che la volta scorsa Avevo detto Questo è il mio ultimo attacco Invece ne ha fatti Almeno altri due La Room Silence Omaggio arrocinante E ovviamente Anche l'altro In cui taglia in due Era misteri Quella che è Vabbè Comunque Fa parte anche questo Di quelle cose Che effettivamente Ci costringono Delle volte A darci un bel pizzicotto Sulla pancia E dire vabbè Dai Il capitolo è bello E niente Ci sono poi Delle imprecisioni Ma andiamo avanti Una dedica Inaspettata Io personalmente Non mi aspettavo Proprio Da Lo Una decisione del genere Di fare una dedica Arrosinante E non sappiamo neanche Se era un piano Che aveva già in mente Oppure È qualcosa Che gli è venuto Lì per lì Soprattutto quando ha visto Che la voce di Big Mom Le sue minacce Le sue parole Le sue maledizioni No Vita o schiavitù Potevano effettivamente Avere un forte Impatto Nel combattimento E dice Allora Sai che dico La faccio star zitta Che poi È il sogno Anche di molti uomini Quando litigano Con le donne Ma questa è un'altra storia E quindi Che cosa succede Che è inaspettata Ma è anche sensata Coerente E geniale Perché effettivamente Non è un omaggio così Alla cacchio di cane Che io ieri dicevo Il Red Hawk Di Rufy Molto bello Un omaggio a Ace Ma non è che aveva molto senso Cioè un pugno di fuoco Magari contro lo di Johnson Invece Quello che è bello È che qui aveva proprio Un senso all'interno del combattimento E anche strategico Non vedo Questa è la cosa che mi è piaciuta Dopodiché ieri Io ogni tanto Prendo anche qualche messaggio Dalla live L'imperatore che cade Nell'immensa esplosione Senza rumore Poetico Bella questa E allora Eccola qui Big Mom Che appunto Si rendete conto Che la sua voce Non viene più ascoltata Lei non produce più nessun rumore Promete Suera Venitevi ad aiutare Niente di quello che tocco Produce suono E quindi lei capisce Che è stata in un certo Qualmotto Intrappolata All'interno di una bolla Nella quale non può più Comunicare con l'esterno Quindi non può più Ordinare a Prometheus Era Misteri Quello che è Napoleon E di andarla ad aiutare Non può più minacciare E prendersi anime Dalle altre persone È fregata È fregata a tutti gli effetti E a questo punto qui C'è il suo precipitare Verso la fine Dove Accade questa cosa Bellissima Che è la minaccia I grandi personaggi Quando vengono sconfitti Soprattutto quando Vengono sconfitti In una maniera Inaspettata Per loro Non possono fare altro Che minacciare vendetta È la prima cosa Che divene istintiva No Kid Lo non vi perdonerò mai E non penserete mica Che questo basti Per uccidermi Ovviamente Quindi rimane in sospeso La possibilità Che lei possa tornare La paura Sempre di questo mostro Quell'incredulità Di chi dice Ma allora veramente Ce l'abbiamo fatta Dite che ce l'abbiamo fatta Siete sicuri Che ce l'abbiamo fatta Cioè capito Quella cosa bellissima Che ti resta comunque La paura di questo personaggio Veramente forte Dopodiché anche Marco Che ieri aveva detto La cosa più poetica È Roger Che dà una ghigliottina Muore facendo rumore Mentre Big Mom Finisce in un'esplosione Ma silenziosa No In questo parallelismo bizzarro Tra i grandi uomini Come Roger E gli imperatori Anche grandi Che però Tutto sommato A quel livello lì Non ci sarebbero mai arrivati E Big Mom Si sapeva da subito Pazzarella come Non ci sarebbe mai arrivato A quella profondità Di personaggio Che era Goldie Roger Quindi comunque Finora mi è piaciuto Veramente tantissimo Il capitolo Prima di andare avanti Bellissimo anche L'omaggio arrocinante Però a questo punto qui Visto che Parliamo della caduta Di Big Mom Parliamo di Goldie Roger E pian piano Ci avviciniamo Poi alla parte Opewe Di questo video commento Big Mom cosa dice Innanzitutto dice Che Roger È colpa Tua Quindi Qui c'è tanto da dire Innanzitutto che finalmente Big Mom Per la prima volta Lo ammette Cioè Ste cacchio di Super 9 Che io chiamo Microbi Dove andate Giochi di pirati E invece no Lo debbo ammettere Questi qui Sono fastidiosi Sono belli fastidiosi Ma soprattutto Se la prende con Roger Perché Big Mom diceva Roger Tu al tuo tempo Hai avuto la possibilità Di conquistare la Grand Line Non so come cazzo Hai fatto Ma ci sei riuscito Ok Ti sei goduto Il tuo bel malloppo Adesso era il nostro momento Cioè finalmente Tu ti sei ritolto Dalle palle E ora toccava a noi E invece tu cosa hai fatto Prima di andar via Hai fatto partire Un'era della pirateria Cioè Hai aumentato La concorrenza Cazzo Adesso cercano Qualunque occasione Per mettersi in risalto Il tuo tempo Era già finito Ma non ne hai pagato Tu le conseguenze Bellissimo Bellissimo E ci hai lasciati qui A vedercela con loro Cioè Un po' Vedete come Ancora una volta Scusate se insisto Ma il Ghekoku Big Mom Si sente Della vecchia generazione Quella che vale Quella Che Quella a cui Spetta Il trono Cioè questa è l'idea Di foto di Big Mom Anche in queste frasi Del 1040 Si continua A percepire L'idea Che dice Io sono Della vecchia generazione Il trono è mio Tu Roger Che cazzo Le potete muovere a fare Sti giovanotti Era mio Il trono Quindi vedete Il Ghekoku Ero io Sulla vetta Che ci fanno questi Dal basso Che Hanno ribaltato la situazione Ghekoku C'erano vi ricordate i cangi Quindi veramente Bellissimo Sta cosa Angolo della posta Diceva Cioè Dalla posta di ieri Marvin La butto là Quando Big Mom Uscirà dalla buca Sarà letteralmente Diventato una vecchiaccia Nel senso che Il sospetto Non tornerà a me Più quello che era E rimarranno Chiari i signi Di questa sconfitta A me piaceva anche La scena Ovviamente di Big Mom Che viene curata Dai figli Ma è a letto Tutta piena di Gesse Gessature Che ogni tanto Si alza di notte Che ancora gli incubi Urla I nomi di chi Dell'u Però bella Anche questa Che lei Per salvarsi La pellaccia Dovrà Utilizzare Ecco perché la volta scorsa Oda ce l'aveva presentato Per appunto Preannunciarlo Poi in seguito Big Mom Uscirà da lì Vecchissima Un po' come accade A zonade in Naruto E quindi poi Avrà bisogno Di Parecchi anni di vita Per guarire Da tutte le ferite Causate dalla caduta Dall'esplosione Eccetera Poi Seconda cosa importante Di Big Mom Il One Piece Rimane ancora un mistero È una cosa Molto manga questa Nel senso che Tante persone Decidono di partire Di sacrificare La loro vita Per questo tesoro Però non si sa manco Se c'è E non si sa neanche Cos'è Sì Diciamo che È interessante Però non so se Nel mondo reale Veramente tutte queste persone Rischierebbero la vita Per una cosa che non sanno Manco se esiste E che cos'è Però vabbè Diciamo che è molto manga E anche molto bella E in fondo risale Un po' ai Templari Con il Sacro Graal Tutti lo volevano Però nessuno sapeva bene Cosa fosse La pietra filosofale Ce ne sono stati comunque Di esempi Ma poi Una cosa interessante Si sapeva già Che c'era un grande tesoro Alla fine della rotta maggiore Oppure un racconto Di Roger Allora Noi sappiamo benissimo Che il nome One Piece Il nome One Piece Non l'ha dato neanche Roger L'hanno dato il giornale Le persone È un nome Che è poi uscito fuori Che poi in realtà In giapponese Ogni volta che Oda Scrive One Piece Sono molto curioso Poi di vedere La traduzione giapponese Del 1040 Non l'ho ancora trovata Se scrive soltanto One Piece Oppure dice Hitotsunaginu doikiku È il grande tesoro Dell'interconnesso Un umano Di cui abbiamo parlato Varie volte Che è il soprannome Del One Piece Comunque Fatto sta Che Big Mom Dice Appunto Almeno prima di morire Potevi dirci Cos'era Sto One Piece E poi dice Ma perché esiste davvero Giusto? E che probabilmente Utilizzerà le stesse parole Esiste davvero Che poi ho utilizzato A suo tempo A Mare In Ford Barba Bianca No? One Piece One Piece Jitsusaisuru Anche una volta In una Mare Avevo spiegato La differenza Tra Jitsusaisuru E Sozaisuru Diciamo che Jitsusaisuru Si intende soprattutto Quando c'è qualcosa Di cui si dubita L'esistenza E invece io dico No no Quello veramente esiste Tipo Che ne so Il paradiso E dico Jitsusaisuru C'è chi ci crede Chi non ci crede Capito? Invece Jitsusaisuru È un po' come dire Qualcosa che esiste ancora Come se dicessi Il tirannosaurus rex Jitsusaisuru Nessuno mette in dubbio Che sia realmente esistito Però Nessuno crede Che sia ancora Che esista ancora Ecco Quindi Jitsusaisuru Probabilmente Big Mom dirà così Ed è forte questa storia Che One Piece Però probabilmente Già si sapeva Secondo me Che c'era qualcosa Alla fine della lotta maggiore Perché Il solo fatto che Roger Abbia raggiunto La rotta maggiore È una cosa straordinaria Ma perché Già si sapeva Che C'era la possibilità Di raggiungerla Però si sapeva anche Che era quasi impossibile E Roger C'è riuscito Non è una cosa Che si è inventato Roger Ragazzi sono andato in fondo Alla rotta maggiore Tutti quanti che fanno E beh Chi è? Cos'è? Cosa è sta rotta raggiore? Che è successo? È Roger che deve spiegare Che ha fatto una grande opera No no La sapevano Cioè già si sapeva Prima di Roger Che c'era questa Possibilità Assurda Roger Ci è riuscito E Secondo me Una leggenda Che lì ci sarebbe stato qualcosa C'era Sanno che Roger L'ha conquistato Però Il problema è capire Che cos'è È forte sta roba Dopodiché Infine Big Mom Ovviamente Perché il manga è giapponese Ci sta Wano è l'isola del Giappone Wano ha un legame particolare Con i Pony Griff Con gli Antimisteri Tutti questi legami Ma vabbè Diciamo che questa parte qui È affascinante Ma non aggiunge nulla di nuovo Lo sapevamo Grazie mille Big Mom Di avercelo ricordato Che comunque Wano è speciale Per l'amor di Dio Dopodiché All'interno di questa doppia pagina Che è una delle più ricche Degli ultimi Anni Diciamo così Di One Piece Scopriamo anche Che nel frattempo Zoro è Tipo morto Non si capisce Non sta precipitando Non so perché ieri Qualcuno ha detto Che sta precipitando Non sta precipitando Però è ridotto male Quindi a quanto pare Quello scheletro Non era Brook E poteva essere A questo punto Anche la morte Le varie teorie Le abbiamo dette Già la volta scorsa Non mi ripeto Non si aggiunge nulla di nuovo Se non per il fatto Che non è Brook E è una cosa Non da poco Perché Brook Era il 90-95% Della possibilità Non è Brook E allora chi è? Cosa è stato? Cosa è successo? E lì Le teorie di ieri Comunque sono quelle Che mi sono piaciute di più Potrebbe essere Un'immagine scaturita Dalla Emma Potrebbe essere Un nemico Potrebbe essere Io avevo pensato Anche a qualcosa Che potesse introdurre Un nuovo alleato O un nuovo nemico Gheccomoria Però vabbè Qui lo scopriremo Ragazzi Però la certezza È che Zoro Non muore Perché figuriamoci Dopodiché Iori e Orochi Proseguono Purtroppo Non è morto Orochi Anche se lo speravo Però come ieri Mi avete fatto ben notare Purtroppo è ancora vivo Io mi auguro Per lui Anche che possa morire Perlomeno Dalle Cioè Se proprio devi morire Almeno che ti ammazzi Un personaggio sexy Come Iori Non è male per lui Comunque questa qua È una storia Che ovviamente Oda si vuole conservare Alla fine Probabilmente anche Per far incrociare Orochi e Momonosu Che adesso vedremo E poi Questa è l'altra notizia importante Anche se non è stato ufficializzato Raizu ha vinto Contro Fuguro Kuju Però attenzione Raizu è completamente In fiamme Ed è immobile Attenti perché Raizu potrebbe anche lui Essere morto Solo che è morto All'impiedi Cosa non da poco Anche perché Ci sono varie leggende Giapponesi Di eroi Che muoiono All'impiedi Barba bianca Ne è uno Ma è ovviamente Anche il buon Benkei Tante storie E i miti giapponesi Oh C'ho la possibilità Ancora una volta Di utilizzare questo sfondo Guarda un po' Che coincidenza Questo non me lo levo più Questo sfondo C'è ormai Una roba fantastica Allora Parliamo un attimino Di Yamato E di Kanjuro Kanjuro fa la fine Che si merita Alla fine è un traditore Alla fine è un povero pirla Che persino alla fine Ha cercato Di fare qualcosa Di grandioso Farsi attarenare Non è riuscito manca A far quello E alla fine Muore Colpito Da un'esplosione Di una bomba Casuale da Big Bam Yamato ha fatto Il suo compito Ha fatto la sommissione Termina qui La sua parte C'è quella di salvare L'isola Dal Cozembo Cazzembo Lì come si chiama Però Arriva lo scoop Uno scoop Che adesso farà Switchare questo video In un OPW Uno scooch Uno scooch Buonanotte Uno scoop Che ci insegna Una cosa Joy Boy E Zunisha Erano alleati Erano addirittura Nakama Compagni E quindi Niente Iniziamo a prendere I pezzi Della storia Wano Si chiuse dentro Questo lo sappiamo 800 anni fa Via di una grande minaccia Il popolo di Wano Poi creò I Pony Griff Ma Joy Boy E Zunisha Erano Alleati Partiamo Allacciamo le cinture E andiamo Devo fare ripartire la sigla Faccio ripartire la sigla No veramente Perché rompo le ponte Facciamole ripartire No basta Allora Parliamo Di questa storia Dunque Signori cari Il riferimento Iniziale È quello Del Vangelo Di Giuda Ora Partiamo da qui Uno Non voglio fare un video blasfemo Nel senso che a me Non mi interessa nulla Di nulla Di tutto ciò che c'è Ognuno è libero di credere Qualche vuole È soltanto un riferimento Culturale e storico Di un documento Che comunque vada Esiste Ecco Secondaria cosa Oda è un genio E adesso vediamo Con calma E poi terza cosa Non è da me dire Questa è la teoria Sono sicuro che è così Ho ragione io Ma per l'amor di dio Voglio soltanto darvi un esempio Di un qualcosa Che potrebbe accadere Mettendo insieme Le cose certe Che sappiamo Uno Oda è un genio Nei flashback Due L'apice dei flashback Di Oda Sono solitamente Le morti Dei personaggi Quindi Sicuramente Flashback di Joy Boy Sarà l'apice di One Piece La morte All'interno del flashback Di Joy Boy Sarà qualcosa di stratosferico Tre Oda fa le cose contorte Quindi Leviamoci dalla testa Un flashback lineare Joy Boy Nasce Vive Muore Sarà tutta una cosa Complicatissima E allora Detto questo Andiamo Il Vangelo di Giuda Un documento reale Misurato anche a Carbonio 14 Quindi Un documento originale Che risale al III-IV secolo D.C. Il personaggio di Giuda Iscariota È un personaggio sicuramente Molto molto particolare È il traditore in persona È il male in persona Eccetera Però Però un gruppo Lo riteneva diversamente La storia è vera Infatti anche Ireneo da Lione Che è l'uomo Che decise I quattro Vangeli canonici Nella sua grande opera Scusate ragazzi Iopi e Ui hanno sempre Una parte iniziale culturale Portate pazienza Poi dopo questi punti Li colleghiamo a One Piece Comunque È l'uomo Già all'epoca Del 150 D.C. Circa Nella sua opera più famosa Contro le eresie Disse che effettivamente Sì esisteva anche Il Vangelo di Giuda Dove il personaggio di Giuda Era completamente rovesciato Nel senso che Era il più fedele A Gesù Gli apostoli Venivano trattati male E così via Quindi è una storia vera Ed è una storia Nascosta Che capovolge Quella ufficiale Aia Già questa frase Abbastanza forte Ma dopo però Parliamo di One Piece Punto 2 Che ci dobbiamo portare A casa Del Vangelo di Giuda È questo Che Ma in realtà In tutti i Vangeli È questa storia La morte è necessaria Cioè Gesù è un personaggio Nato per morire Ovviamente In riferimento Gesù Joy Boy Mi sembra ovvio E qui non c'è bisogno Di capirlo Già si è anticipato E la morte è necessaria Io vi faccio l'esempio Dei re immagino Che portano tre doni Oro, incenso e mirra L'oro Perché Gesù è un re L'incenso Perché è sacro E la mirra Sapete cos'è la mirra? La mirra La mirra è quella Che si utilizzava Per i tifunebri Cioè la mirra Significa Tu devi morire Immaginatevi che è bello Che andate a un battesimo E come il cavolo di battesimo Ha portato una bara Piccolina Per il bambino Cioè Capito? I genitori Non è un bel dono Portare la mirra Ma era simbolico Perché la sua missione Prevedeva La morte Che poi il cristianesimo È una religione Che affronta la morte In maniera molto particolare Rispetto alle precedenti religioni Quello che Nietzsche chiamò Il colpo di genio Del cristianesimo Andiamo avanti Fatto sta che comunque L'umanità Non era ancora pronta Per capire Gli insegnamenti del Cristo Questo soprattutto Nel Vangelo di Giuda Viene proposta questa idea Adesso vediamo perché Filosoficamente parlando E quindi Gesù dice Ok Non sono ancora pronti Passerò più in là E questo si sa Ci sarà la seconda venuta del Cristo Questo è ufficiale E quindi Non mi resta che morire Il piano B Passiamo al piano B Quindi questa è una cosa interessante Punto 3 Il tradimento Qui è il centro anche Della religione cristiana Vi è un tradimento Nel Vangelo di Giuda Ovviamente il tradimento È rovesciato Giuda Gli fu chiesto di tradire Allora Il tradimento può essere per sé Nel senso che Il Cristo disse Guarda Io ho bisogno di morire Perché devo ricongiungermi Al Padre Eterno O anche per gli altri Ho bisogno di morire Così posso insegnare Attraverso la mia morte Qualcosa Ma questo è un dettaglio Che non è importante Bisogno di morire E quindi Chiese a Giuda Di ucciderlo Una morte Ovviamente Non proprio diretta Non è che Giuda Piglia una pistola E spara Anche perché non è che Poi c'erano le pistole All'epoca Però per capirci Giuda è comunque Colui che ammazzò Cristo Almeno indirettamente E ieri avevo fatto L'esempio dei faraoni Perché quando Bisognava fare La mummificazione Bisognava aprire Il corpo del faraone Ma nessuno Voleva farlo Perché era un sacrilegio Quello era un corpo divino E allora c'era un povero Disgraziato Che gli toccava Questo duro compito Di dover Tagliare il faraone E poi tutti lo linciavano Praticamente Ecco Una storia simile Fu chiesto Come missione Di compiere un crimine Cioè Io vado Dalla persona Dalla persona Più fedele a me E io dico Guarda io ho bisogno Di morire Te lo chiedo per cortesia Mi puoi uccidere No io non se ne parla proprio Ti prego Anzi ti dirò anche Un'altra cosa Se tu mi ammazzi Tutti quanti ti diranno Nella storia dell'umanità Però ne ho bisogno E lo chiedo a te Perché sei la persona Più fedele Ok Mi macchio di questo crimine Questa è la storia Del Vangelo di Giuda Ed è una storia Molto particolare Perché vagamente Potrebbe collegarsi A quella di Zuniscia Punto 4 E poi passiamo a One Piece Finalmente I prescelti Vado direttamente Da Wikipedia Quando parla Del Vangelo di Giuda E dice Secondo questo Vangelo Ci sono due specie Di esseri umani I primi Sono uomini Dall'anima immortale Uomini di luce Quindi uomini speciali Che hanno Un'anima speciale Poi ci sono I mortali Discendenti Da Adamo Generati dal caos E poi ci sono I ultimi Proprio quelle lì Le pippe totali Quelle lasciamo le stare Quindi Giuda Probabilmente Era Almeno questa è la descrizione Che viene data L'unico Che riusciva a capire I complessi E difficilissimi Insegnamenti del Cristo Era quello più vicino A lui Talmente Difficile da capire Che era l'unico Poi a non essere compreso Questa è una storia Che viene ovviamente Poi rivoltata Dai Vangeli Canonici Attenzione anche ieri Come vi dicevo Lo stesso Benedetto XVI Dirà Fermi tutti Guardate che Giuda Facciamolo stare È un supermo È un millantatore Quindi Per l'amore di Dio È soltanto una versione Una versione così Però Può essere piuttosto Interessante Visto che poi La figura di Giuda È utilizzata tante volte In Okuto no Ken Cioè Giuda Un personaggio Che chiaramente È la stela del tradimento Di Nanto Secondo voi A chi è ispirato? A Topo Gigio È normale Quindi Un personaggio Che è ispirato spesso Spesso Andiamo in One Piece Il punto 1 La storia Che ribalta la precedente Vabbè Questo è facile I Pony Griff Vabbè Questi ce l'abbiamo Vediamo il punto 2 Quello che parla della morte La morte Come soluzione Finale Per il destino E qui È una cosa Un po' complicata Perché effettivamente Goldie Roger Ebbe bisogno Di morire Ad esempio Per lanciare L'era della pirateria Oden Ebbe bisogno Di morire Per lanciare Diciamo Avanti Negli anni Quelli lì Che poi potevano tornare Joy Boy Probabilmente Ebbe bisogno Di morire Per iniziare Un'era Magari la prima Grande era Della pirateria Non so che dirvi Però comunque Qualcosa Ha dovuto fare Joy Boy Poi dopo tiriamo Le conclusioni Di questa Il tratimento Joy Boy A un certo punto Proprio quando capì Che doveva morire Chiese A quanto pare Al Nakama più fedele Questo è il crimine Di Zuniscia Che Uno potrebbe dire Ma scusami Non può essere Semplicemente un crimine In cui Joy Boy Ha detto a Zuniscia Fai una cosa Zuniscia Ora l'ha fatto Si è commesso Di un crimine E Joy Boy L'ha punito È troppo lineare È troppo strana Come storia Secondo me Scusate Ma mi pare strano Come dicevo ieri Che la storia è questa Zuniscia Fai questa cosa Zuniscia che dice No Va fangulo Zuniscia Ma fa chiede è morto E muore Joy Boy Cioè onestamente Un flashback così Non mi pare tanto Alla Oda Personalmente Questo già è più contorto Come storia Qualcosa di simile Perché figuriamoci Se poi Oda Fa una roba così Però Per dire E il punto 4 Anche qui Qui proprio un OPW A tutti gli effetti Che tratto OPW È One Piece Weekend Oggi è sabato Ci sta punto Attenzione a questo punto La volontà della D A proposito delle anime Mortali Immortali Anime speciali Non speciali La volontà della D In giapponese Si chiama Dino Ishi Attenti a questa parola Ishi Che si pronuncia E si scrive Come i due Pony Griff Qui vicino Ishi Che significa Volontà Ishi Ok Ma C'è un altro kanji In giapponese Quello che vedete Alla destra Che è Pietra Sapete come si pronuncia In giapponese Pietra Ishi Cioè Dino Ishi Detta così Può significare Sia volontà della D E Oda Comunque la scrive così Con i kanji di volontà Però attenzione Che può essere anche un gioco di parole Con La pietra della D Perché dico questo? Perché nel cristianesimo Il simbolo chiave È il simbolo Che rappresenta La morte del Cristo Visto che la morte È al centro del cristianesimo La croce La croce Dove Gesù è morto È il simbolo del cristianesimo Ma non è che la D Non è altro che una pietra Un simbolo Un qualcosa Che ricorda proprio La morte Di Joy Boy E da lì Un inizio Di una specie di mito E così via Però vabbè Queste sono tutte teorie Un'altra cosa importante È questa Quello che è stato cancellato Nella storia È la storia Di soli cento anni Se l'antico regno Fosse esistito Anche cinquecento anni fa Noi ne avremmo avuto conoscenza Ci sarebbe mancato La parte finale Di questo Invece no Noi non sappiamo niente Di questo regno Ma sono stati cancellati Giusto questi cento anni Il che significa Che questo regno Né prima Né dopo Si attraccia È un regno Nato Vissuto E terminato All'interno di questi cento anni Che più o meno È Il percorso di vita Di una persona Joy Boy è nato Ha creato L'antico regno Ha creato Un progetto Un sogno Una famiglia Una volontà Un ideale Qualcosa Di molto complesso Che poi alla fine È collassato su se stesso Perché? Boh Forse perché l'umanità Non era pronta Non lo so E qui arriviamo Alla parte più difficile Di questo video Se resistete bene Altrimenti Mi dispiace per voi Però Il punto è questo Ma questo Vangelo di Giuda Com'è che nasce? Qual è l'idea di fondo? Dove vuole andare a parare? Diciamo La fonte filosofica qual è? Ora Chi di voi ha studiato un po' di filosofia È avvantaggiato Chi Cerco di Comunque Chi non sa queste cose Cerco di In breve Di raccontarle Vi era una corrente filosofica Molto importante in Grecia Che nasce da Platone Platone divideva il mondo In due In due grandi mondi Diciamo così In due realtà La realtà Che si chiama in gergo Empirica Ma sarebbe quella lì Delle cose materiali Quello che potete vedere Quello che potete toccare Quello che potete odorare Eccetera E poi c'è un'altra realtà Quella vera Quella lì che vale Quella lì originale Che è la realtà Lui la chiamava Iperuranio Cioè il mondo delle idee Il mondo Al quale si può raggiungere Al quale si può ambire Soltanto attraverso la ragione Quindi due mondi Un mondo razionale Un mondo complesso Un mondo speciale Un mondo con idee vere Originali E un mondo invece Terra terra Empirico Fatto di cose materiali Ora che cosa accade? Che questa visione dualistica Del mondo C'è sempre stata E continuerà ad esserci Pensate che persino Il film Matrix Non è altro che Questo doppio mondo Il Matrix è Il mondo fittizio Dove ci credono Cioè ci illudono Di vivere Pensiamo che sia vero E poi c'è il vero mondo Dove poi Neo Il prescetto si risveglia Che è il vero mondo Cioè il suo corpo Era in realtà In uno stato vegetativo Ecco Quindi Questo gioco C'è sempre stato Nel mondo della filosofia Il fenomeno di Kant Cogito ergo sum Di Cartes Non è altro che questo Cartesio mette in dubbio La sua esistenza E dice L'unica cosa certa che ho È il fatto che penso Cioè guardate che Questa cosa c'è sempre stata E allora cosa hanno fatto Gli ignostici Che sono i fedeli di Giuda Da questo punto Che poi Loro non è che Amavano tanto Giuda Però Diciamo Gli ignostici Cosa facevano? Non hanno fatto altro Che dividere il Vangelo di Giuda L'insegnamento Di questo Vangelo In due Regni C'è un Dio Un Dio Che è quello che ha creato Adamo ed Eva Ha creato L'Eden Ha creato La Terra Ha creato tutte le cose Ed è il Dio Cattivo Il Deviurgo Viene chiamato Saklas Ok E questo Dio Era appunto Il Dio Terra Terra Che offre Una realtà semplice Mentre invece C'è un altro Dio Un Dio vero Un Dio molto complicato Un Dio Solo per pochi Che invece È molto più complesso Da raggiungere Che è il vero Dio Quello lì Appunto Che Giuda è l'unico Che riesce a capire Perché è troppo complicata La cosa Questa scissione In due del mondo Perché vi devo raccontare Questo per arrivare Al sodo della teoria Dunque Durante i cento anni Di buio Joy Boy Creò un movimento Che andava Oltre le apparenze Ed era troppo complesso Cioè Joy Boy Provò ad andare Oltre la realtà Oltre la realtà Oltre le apparenze Può anche significare Un mondo in cui Non ci sono più diversità Non c'è più odio Non ci sono più Dei concetti Basilari Quante volte si dice Che la guerra Dovrà esserci per forza Perché è insita Nell'animo degli uomini Sì ho capito Ma qui stiamo parlando Di andare oltre queste cose No Un mondo troppo complesso Un mondo fantastico Però nessuno L'ha capito Joy Boy E lui stesso A un certo punto Si è reso conto Che l'umanità Non era pronta Per capire Il suo sogno E quindi cosa ha fatto E' passato al piano B Non fu capito Fu abbandonato La sua famiglia La sua famiglia si disperse Quindi gli uomini della D Lui si suicidò Aiutato dal suo uomo più fedele Chiese scusa a Fishman Island Perché il suo obiettivo Era ovviamente Anche portare Lì in quel suo regno Gli uomini pesce Ma quando capì Che ormai era troppo tardi Ragazzi scusate Ma veramente Non è cosa Lasciate proprio stare Tornerò fra 800 anni Ma al momento Guardate veramente Lasciate proprio stare Chiese scusa a Fishman Island E niente Si lasciò morire Nell'ultima isola Quella lì Che raggiunge Roger Ultimamente Ovviamente È fatta così È una teoria complessa Però Chi è Im Im è l'altro Dio Quello lì Delle cose semplici Im non so Se sia vivo da allora Perché ha avuto l'opeope Oppure perché è nato a Godvalle Comunque fatto sta Che Im è l'altro Dio Quello lì semplice Quello lì del mondo razionale Che offre Scusate Del mondo concreto Che offre una Una semplicissima scelta Im è quello lì Che dice Come il Demiurgo Nel Vangelo di Giuda Cioè il Dio inferiore E il Dio materiale Il Dio pratico Offre È fatto per gli uomini semplici E che dice Semplicemente questo Potete stare qui Io vi do l'ordine Io vi do Le leggi Io vi do le cose da fare Voi basta Potete stare qui Basta che non rompete le palle Tutto qui Infatti C'è anche un gruppo Che praticamente Venerano il serpente Che offre La mela dell'Eden Perché venerano il serpente Quindi tutti gli appassionati Assans e iscritti Si esaltano Perché Effettivamente Il Demiurgo Il Dio inferiore Creò ad Amedeva E disse Voi potete stare qui Basta che non rompete le palle Più o meno è questa l'idea Ovviamente il serpente Che è buono Offrì cosa Il seme della conoscenza I gnostici sono coloro Che amano il sapere Nico Robin è gnostica E quindi Disse Mangiate Evolvetevi Come umanità Andate oltre Raggiungete I limiti Cioè Superate i limiti E Quindi era Il Dio vero Cioè Proprio un ribaltamento Totale della storia No E' affascinante In parte Sta cosa Ora Quindi abbiamo Da un lato Im Il Dio Che offre Un mondo semplice Una realtà semplice Eccetera E Joy Boy Che ha provato Questa iniziativa Troppo complessa Che poi è collassata Su se stesso Perché l'umanità Non era pronta E alla fine Ha utilizzato anche La morte No Per Per Come Per compiere il finale Della sua opera Tra l'altro volevo In breve Prima di concludere Anche parlavi un attimo Di una cosa Il Soku Shinbutsu Che Questa storia Ha anche Un forte collegamento Anche alla Teoria giapponese Perché Ci sono alcuni monaci Buddhisti in Giappone Che fanno L'automummificazione Non sto scherzando L'automummificazione Cioè Smettono di bere Smettono di mangiare Poi smettono di bere Poi iniziano a mangiare Delle erbacce Che servono per preparare Il corpo Alla decomposizione Dopodiché Si chiudono in una grotta O meglio Si fanno chiudere in una grotta Suonano Un campanellino Qualcosa A intervalli periodici Quando smettono di suonare Sono morti Aspettano qualche giorno Aprono Questo sepolcro E vedono In che condizioni Ha il cadavere Se si è dicomposto Non ce l'ha fatta E quindi Lo seppelliscono Fra tanti onori Se invece il suo corpo In buone condizioni Ce l'ha fatta Ora Non so Fino a che punto Si possa arrivare A fare queste cose Perverse Però i monocci buddhisti Lo fanno Sono pratiche Dove Secondo molti Appunto Questo non è il vero mondo Il vero mondo E un altro E l'unico modo Per raggiungerlo È morire Quindi la morte In One Piece Pure ha Il suo La sua importanza E Questo è Comunque Ragazzi Come vi dicevo Questo è soltanto Sono degli spunti Sono delle idee Non è una vera e propria teoria Per me Quello che è fondamentale È che Oda è un genio Oda Non ha bisogno Del Vangelo di Giuda Per tirar fuori una teoria Non ha bisogno Di nessun libro di storia Non ha bisogno Di conoscere La storia Di nessun re Esistito In passato Possa essere Di Java Dell'Indonesia Dell'India O del Giappone Oda è un genio Si sa creare Le sue storie originali Si sa creare I suoi percorsi Unici E geniali Però Semplicemente Sono delle idee Tutto qui Ecco I pronostici Della settimana Abbiamo concluso I pronostici Della settimana Io dico questo Che Si rivede Rufi L'abbiamo persa Mwame Zunisha L'abbiamo presa Iori Orochi L'abbiamo presa Termina il terzo atto Ovviamente no Ma Per la prima volta Da anni Abbiamo che Prima possibilità Vittoria di Raizo A 2.10 Si rivede Rufi Perché ormai direi che ci siamo A 3.50 Lo dico Terza possibilità Termina il terzo atto A 5.50 Non è più La quota più alta Perché ragazzi Il terzo atto Sta per terminare 5.50 Termina il terzo atto Da questo momento in poi È fattibile Che accada E poi Quota più difficile Che già arrivi Zunisha A 8.20 Magari Le vediamo pure Tutte e 4 La più bella Della settimana Ce ne erano tante Per me La più simbolica Della settimana È stato il buco Che vedeva Big Mom Nel quale cadeva Però la più Bella per me È Questa qui Lo Che dice Mamma Non ti sento Dietro le sue spalle È Lo Che niente Sta messo lì In una posizione Strafica Mi è piaciuto tantissimo Quest'incuolatura di Lo Scusate Ogni tanto Ho questi momenti Così di Di goduria L'angolo della posta Andiamo veloci Spediti qui Nell'angolo della posta Vediamo un pochettino Voi che cosa avete visto Di bello qui Allora 90 minuti di applausi Dice Allora A mio avviso Il capitolo più bello Di sempre In pochissime pagine Oda Ha disegnato Un vero e proprio Cavolavoro A cui non manca Veramente niente Ci sono tavole Di assoluta qualità A livello grafico E visivo Non saprei nemmeno Scegliere la migliore L'alta Elena Di emozioni La sorpresa Dora Big Mom Ancora vive vegeta Che sorride Perché tutti La davano per spacciata La paura L'angoscia Che Oda ci fa provare Eccetera Non potevo davvero Aspettarmi niente di meglio Per la fine dell'era Della più forte piratessa Di sempre Che ne esce sconfitta A testa alta E ancora in grado Di combattere Spero sia lo stesso Anche per Kaido Ma secondo me Anche peggio Ma One Piece Non è il manga dove vince Il più forte Il manga dove vince La forza di volontà Bravissimo Uno che inizia a capire One Piece La isci La volontà Unica nota Leggermente negativa L'ultima pagina A mio avviso Buttata lì Solo per creare Hype Prima della pausa Beh Hype Però creare anche Uno più vuoi di Strike Che comunque Non è una roba da poco Dopodiché Il mistero Eccolo qui Capito di transizione Pazzesco Ovviamente Un capito di transizione Non dimentichiamoci Di ricordare questa cosa Vediamo un pochettino Ciao Strike Non so se riuscirò A partecipare alla live Quindi mi sono letto Il capitolo adesso Spero ti sia piaciuto Secondo me Oda si è superato Il livello di disegno E di regia La scena in cui Lo taglia a metà Era e Kid Martella Big Mom Con il Damn Night Punk Con il nostro punto di vista Posizionato in mezzo All'uomo affettato Mi ha steso Per non parlare Della bomba finale Anche avevo notato Del punto di vista Comunque ora che abbiamo La conferma che Brooke Si trova altrove Mi sto preoccupando Per Zoro Sembra sia ridotto A brandelli Speriamo che il tristo Mietitore La morte del capitolo Sia solo un'allucinazione Potrebbe anche essere Causata dalla Emma Assolutamente si Condivido in pieno Che possa essere Causato dalla Emma Che è sta roba I took that personality Ah vabbè Questa qui è molto carina Questa tua Questa tua battutina Qui Invece questo Hazel Il nome strafico Che c'è Hazel è bellissimo Poi Teoria su Zunisce Zoro Zoro Ho capito bene Ciao Strike Purtroppo oggi Non ho potuto seguire Una teoria All'1 e 17 di notte Quindi non so cosa aspettare E' da un po' che inizio a pensare Che il potere di Ymzame Sia quello di sigillare Le persone in animali giganti Giobbe probabilmente Era un pirate Una volta sconfitto dal governo Tutti i membri della ciurma Sono stati sigillati In animali Sia Zunisce Che i re dei mari Visti nell'isola Di uomini pesci Sono ex compagni Di Joy Boy Solo che ha una volontà Forte Un animo puro Può sentire le loro voci Buona Mara Marina Poi questione su Zoro Sta precipitando E gli unici che secondo me Possono salvarlo Sono due Franchi Che si trova vicino a lui Oppure Momonosuke Perché ci troverebbe Un grande dilemma Salvare Zoro O salvare la capitale Decidendo alla fine Di salvare Zoro Lascerebbe tutto Nelle mani di Ruffi Che doveva battere Kaido E' carina anche questa Mi piace perché C'è veramente un bel rapporto Tra Zoro e Momonosuke E poi Zoro Per me resterà legato A Wano Anche alla fine Di questa saga Poi Ciao Rileggendo le pagine Della mini avventura Sulla famiglia di Sanji Mi sono chiesto il perché A cosa avrebbe portato Quella mini avventura E fine a se stessa Per farci vedere Che fine avevano fatto O c'è qualcosa in più Secondo me infatti Oda utilizzerà la mini avventura Per mostrarci come Barba Nera Da stratega qual è Invada Hulk e Kylan Per recuperare Il Road Pony Griff Sfruttando l'assenza Della mammona Beh effettivamente Sai che hai ragione Ogni volta che cade un imperatore C'è il disastro totale Nel mondo Come accadde All'epoca di Barba Bianca Hai perfettamente ragione Chissà adesso che casino Tutti i territori Che fine faranno Buonasera Castrike Un'altra domanda che mi faccio è Come fa Zuniscio A vivere così tanto tempo? Vabbè Ma è un mostro della terra Ipotese Somiglia molto ai guardiani Demoniaci di Impel Down Con il frutto risvaiato Potrebbe essere addirittura Uno dei beneficiari Dell'Upe Sì Oddio Lo so ma non è un essere umano Per cui Lui può Già dipende da Oda È una creatura creata da Oda Decide Oda Quanto vivono le creature Che lui stesso creano Credo che sia un problema Guido Gagliardi Ciao Stefano Ti seguo da un sacco di tempo Alle 5 del mattino Mi sono sempre peritato Dallo scrivere su questo forum Peritato Colgo l'occasione Per ingazzarti Per i tuoi contenuti Grazie mille Carissimo Peritato Dimmi tutto Ti scrivo perché Leggendo l'ultima pagina Del 1040 Ho collegato varie parti Sentiamo La mia teoria è che Zuniscia potrebbe essere La mancestrale Pluton In One Piece Infatti sappiamo anche Che gli oggetti Si possono nutrire Dei frutti del diavolo Quindi seguendo questo principio Dovrebbe essere in grado Di farlo anche una nave Dal cui il suo aspetto D'elefante isola Inoltre Momo ci dice Specificatamente Che Zuniscia È una cama di Joy Boy Il che non sarebbe stato Se Pluton Non fosse stata Ne più nemmeno Che la nave di quest'ultimo Ma io vorrei prendere Questa teoria E farla leggere a Oda Sarebbe bellissimo Mi spingo un po' più in là Dicendo che questo Potrebbe spiegare Anche il rapporto particolare Con Momo E il fatto che lui S'è in grado di parlare Con lei A darle degli ordini Dalla storia Della Going Merry E il suo rapporto Con Usoppo Sappiamo che le nave È una vera e propria anima Certo E che questo Si può addirittura Materializzare Chiudo con un'ultima Considerazione Momonosuke Ci dice che Zuniscia Si è immaccato Di un terribile crimine Quale terribile crimine Di più di aver Distrutto l'antico regno In favore Degli attuali Draghi celesti Secondo me tu sei partito Da questo Per creare questa teoria Hai pensato A un crimine Contro l'antico regno O contro Joy Boy Il che ci può stare Ovviamente Certamente il crimine È quello Non certamente Il crimine È contro I draghi celesti Perché Erano i nemici All'epoca Buongiorno Strike Con l'ultimo capitolo Abbiamo assistito Alla definitiva Sconfitto di un imperatore A differenza di Barba Bianco Roger La caduta di Lillini È avvenuta nel completo Silenzio Quasi a voler cancellare La passata Era in favore di quella nuova Curioso come questo avvenga Nella stessa saga In cui appaiono i dinosauri Visto che alla fine Si accade che Big Mom Rappresentano proprio Quest'ultimi Mentre le Super 9 Sono il meteorite Pronto a sparsare via La tirannia Questa è un'interpretazione Allegorica Tutta tua Le ultime parole di Big Mom Sono un approfondimento Maggiore Che ho da regalo Al suo personaggio Che potremmo ampliare Anche a tutti i pirati Della vecchia generazione Condivido in pieno Questo sogno Che ha scatenato Per il mondo Tutta una nuova generazione Di pirati Che alla fine Ha spaventato la vecchia Nella speranza Di poter cambiare Le cose Ragazzi Il Gekokujo Il Gekokujo Quello era Big Mom E la sua memoria Che dice Se invece di impazzire A rendersi Una nuova generazione Di pirati La mammona Recuperasse tutti I vuoti di memoria Compreso quello Dell'aver cannibalizzato Madre Caramel Realizzando così Che la sua vita Era basata Sulle bugie di Streusen Potrebbe abdicare E così Con Katakuri Probabile erede Allearsi con Rufi Il canone di Kid Su Big Mom E una citazione A Tenzing Che trattiene Celle con il cannone Spirituale Beh bella anche questa Comunque E' tosta La tua teoria Secondo cui Alla fine Addirittura Cioè Solitamente Effettivamente Alla fine Di ogni saga Rufi si crea alleati Kaido Va via E l'alleato Sarà Momonosike E Orkikai Giustamente Katakuri C'è un bel rapporto Tra i due Potrebbe anche capitare Questa cosa qui E non è da escludere Però Magari unendola All'idea Di Big Mom Che uscirà da lì dentro Invecchiatissima E ha dovuto sacrificare Anni di vita Pur di sopravvivere Eccetera Mettiamo insieme un po' le cose Ragazzi sentite Io su Youtube Si è fatto tardi I commenti di Youtube Facciamo così Facciamo una grande Super Live Live di come Dio comanda In settimana Di quelle belle toste Venerdì prossimo Ci leggiamo Tutti i commenti Tutte le teorie Anche le risposte A questo stesso video Qui presente E ci facciamo Una grande live Infra settimanale O meglio Infra pausa Venerdì prossimo Ci leggiamo Gli attuali commenti Di Youtube Che adesso Qui in sospeso Che ne sono anche Un bel po' E la madonna Se ne sono tanti E quindi ci leggiamo Questi più quelli Dell'attuale video Ed eventualmente Qualcos'altro Che uscirà dal forum Detto questo Vi saluto Voi mi raccomando Fate i bravi Buon weekend A tutti Se volete Domani sera Ovviamente Ci sarà La Twitch cronaca Della Atalanta Juve Quindi ci vediamo lì Per altri motivi Che hanno a che fare Con una palla Che rotola Per il resto Invece Noi ci vediamo Prossimamente Mi raccomando Fate i bravi Buon weekend A tutti Ciao ragazzi Grazie mille Per averci seguito Ciao